Allora, il nonno ha comprato un albero di castagne e l'ha piantata. Lì dietro ho piantato un albero di carrube, sono buone da mangiare. Più ho comprato albero d'olive, tutti gli anni il nonno ha pianto albero d'olive per combattere l'inquinamento e per aiutare la campagna, perché nella campagna più alberi ci sono meglio è.